ragazzi un saluto a vostra stati da oggi vorrei assolutamente farmi le 28.000 nonché anche il primo a 650 per la prima volta involontariamente questi giorni ci stavo giocando con il primo e stavo facendo coppe a caso ho detto vabbè a chiul sappiamo come vanno le partite vorrei farmela qui nei ladri di trofei forza speriamo che non escano troppo cattivi vabbè mi stanno bene nita il signor stura lavandino io dovrei starmene qui buono buono un attimo perché se quello ruba la coppa noi siamo completamente rovinati siamo completa come è fatto quella come ha fatto a vedermi come caspita ha fatto a vedermi non lo so dai bravo bellissima giocata allora il problema è questo loro si sono rubati anche la coppa se la stanno portando a casa via aspetta aspetta dai 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 così facile è stato non ci credo a te meno male sono difficoltà con qualcosa che saltava che schifo meno male ragazzi ok è già il primo è stato fatto a 650 ora non viene altro che l'evento 8k un mappino più vasto io sono un pazzo ma voglio provarci a farci a tara qui in questa mappa così nel caso ce la portiamo via dal reset così almeno ci togliamo il drop andiamo niente io proprio non è che certe capisco sono un pazzo che voglio fare a tara qua 750 andarla a recuperare e già con le faccine tristi siamo passati addirittura piano piano quello che si trasporta quello schifo attenzione va bene lui sta andando di là verso la coppa ci vai ci vai ci vai o non ci vai è che giustamente dai 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 che devo difendere mamma mia ti prego ti prego ti prego ti prego si l'ombra l'ha killata perfetto perfetto che l'ombra l'ha killata la nostra coppa spero che stia tornando mannaggia della miseriaccia ok è tornato cioè ci siamo completamente killati avvicendo a tutte le coppe speriamo aiuto quello non ci voleva qua dynamite non ci voleva assolutamente dynamite qui che rompe le scatole peccato avevamo entrambi abbiamo fatto una bella giocata entrambi proprio bella bella dai non so se piglia piglia e porta a casa veloce piglia l'ho tirata e oltre no non ci credo guarda dove l'ho messa questa è cattiveria questa è cattiveria l'abbiamo segnata sì l'abbiamo segnata piano piano ragazzi piano 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 che si fregano la coppa dov'è lo killiamo l'abbiamo killato quello piano quello si sta fregando la coppa ma perché vabbè rimani di là litiga con l'altro aspetta aspetta dimmi che li grabbo entrambi dimmi che li grabbo entrambissimi dai 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 quelli stanno ancora litigando stanno ancora bisticciando di là ma davvero via eh ma ragazzi io sto difendendo e che diamine non è che posso andarla a prendere così dal nulla che non è che prendono ed è facile prenderla perché poi che fanno ti killano killalo velocemente quell'ora se la prende la tira velocemente di là è stato bravo l'ha presa è stato edgar ci devi dare tu una mano non è che puoi prendere a caso ma io non ci credo vieni qua che la facciamo a 750 meno male aiuta basta tara per un mese non la vedremo mai più mai più guardate che ci siamo andiamo a ci affare anche ai signori no squeak vediamo se riesco a sfarla a 650 ma qui mi sa che non va assolutamente bene eeeh tutti i tank aiuto ci sta pure edgar che rompe le scatole di là edgar non dormirci ti prego che già la situazione è brutta così quello deve venire qua a rompere le scatole niente i miei compagni se ne sono altamente fregati dice chi se ne frega andiamo a prendere la loro coppa però alla fine casino andiamo di qua prendiamocela anche noi facciamo così ok quella è presa dobbiamo stare attenti perché comunque è un casino ora loro appena si avvicinano devo fare una roba devo fare così devo pusharli per evitare che la nostra coppa se ne vada a quel paese eeeh lass pianos caspitos è di tutto e di più caspita eh non ci sono riuscita a prenderla ragazzi ma non male che comunque loro l'hanno toccata eh che diamine è messa lì non si prenderà mai non si ma c'è riuscito non ci credo ma che bravo questo è Dino bravo Andrea loro hanno voluto giocare di nuovo a me sta bene sono stati bravissimi sono stato io scarso ragazzi il brawler mi sa che qua non va bene perché volevo portare alla modalità nuova e che caspita il dynamic rompi scatole che non è altro dai 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 boom ok vai Andrea tiramela di là che la salvo io ma andiamo mannaggia della miseriaccia non l'ho killato per 500 di vita ma si è cattivo in questa maniera dai togli il Dino togli quel coso brutto che ci ha messo di là allora stiamo attenti quello sta arrivando quello ragazzi non gliene frega niente a Frank quello arriva prende e se la porta via perché c'ha un bottissimo di vita allora qua è venuto il momento che io volendo posso usarla questa affare così di qua lo posso anche usare mettiamocelo di là non riusciamo eh ma che diamine fa un botto dai 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 scoppia ci sta sempre un botto a scoppiare la bomba di Squeak questa è questo è un suo malus ragazzi ci sta sempre un botto un botto ma come si deve fare come si deve dammi subito qua vado a segnarlo io a Squeakettina 650 forza bello mi stanno piacendo è carina la modalità è carina è molto molto carina ok 656 e anche questo è stato fatto a quanto siamo arrivati a 94 quindi ne manca solo una di partita perfetto io siccome mi voglio rilassare un poco perché il cuore mi sta implodendo malissimo a fare sti brawler io andrei sicuramente con Bazzolino così siamo belli tranquilli e ci andiamo a fare l'ultima partitozza va bene allora ragazzi vado in singola in sopravvivenza così me ne sto buono buono tanto le coppie sono oh ma perché il counter ma che schifo niente non riesco a prenderlo perché mi fa malissimo pizzo ma proprio perfetto il counter ce l'ha messo e dai e lasciami in pace lasciami in pa mi deve assillare vediamo se riesco a killarla voglio non si pusha Bazz faccia a faccia stavi giocando bene prima prendiamoci anche questo dai che devo fare le 28k non rompete le scatole tutte le cassettine mie tanto loro sono stupidelli all'inizio non sanno che le scatole sono bellissime bisogna prenderle per fare le provate più assurde non è vero sto scherzando signor pocetto venga qui che vi killo entrambi ciao uno venga anche qui signor pocetto no dove sono andato dove è andato la mia tavola da serpio e dove è andata a finire in che mare in quale oceano undici dodici dai che magari ci siamo riusciti eh sì secondi ci siamo riusciti dai sto scherzando ragazzi mi conoscete dove si è nascosto il bot perché non è che dico dove si è nascosta la persona è il bot è un bot o non è un bot questo è il dilemma vediamo se mi killa perché ti pare no non è che è tanto semplice poi andare a killare i bottini oh dimmi che ci siamo riusciti ne mancavano quanto abbiamo fatto pure il 300 con bazzolino eccocelo qua ah che bello sentire questo sono ragazzi voi non ne avete idea è bellissimo ragazzi per questo video è tutto lasciate un mi piace iscrivetevi commentate e condividete in descrizione trovate instagram per chi volesse iscrivermi follow what ogni giorno mi trovate in live con bros stars e stumble guys ciao 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 bellissimi vi voglio bene